E mentre Deulo Fo veglia su di noi, ragazzi vi do il benvenuto a questa nuova puntata della nostra carriera con la Terenitana Allora, giustamente mi avete fatto notare che se qui non se dà una mossa Ci vorrà ben più di una mesata Quindi oggi, cianci al bando, andiamo a vedere Andiamo a vedere di giocarcene un po' Il più possibile, tanto noi mercato non lo dobbiamo fare, noi siamo pronti così Vabbè, tanto per adesso quello che è Oh, a ridaglie con Veseli Non è... Tutti, tutti vogliono Veseli Io non so da cosa nasca questa, questo amore viscerale Tanto un td è andata io Ecco, vediamo un po' anche Dioric Ma vai, 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 non ti voltare Qui rifiuta Tanto muo' arrivano i nuovi Allora, vediamo un po' di detattative Un td ha di Wolves per 23 Lautaro al City per 100 Pau Torres all'Atletico per 82 Coulibaly allo United per 65 Aspili Queta Pic Pic Allora, vediamo che esce fuori Ho letto al di là sulla maglietta La squadra santa Allora Per adesso mi avete dato indicazioni incoraggianti Devo dire tra i commenti per quanto riguarda sta carriera Alcune addirittura hanno parlato di trattative rigide più vivibili rispetto agli anni scorsi Quindi chissà Ditacchio e Gagliolo? No Dai di Ditacchio Eh, ma Ditacchio non giocherà mai Lo so che crea un dolore Però vediamo se si fa Gagliolo non Don't touch my Gagliolo Ditacchio è l'altro non gioca So che crea un dolore eventualmente ai depositi della serenitana Oh Broz Soldo è terrificante Ce la faccio Movila Terrificante Robert Smith Il canadese del 44 di overhaul Vabbè Oh è tornato buca Paire Teribile Paire Malagari Malagari Fossi forte Ma purtroppo non lo sei Vabbè Mariani che dice Samore D'Angelo Figlio d'arte Matteo Bruno Da valutare Alessio Galli Non ci piace Dennis Conte Lorenzo D'Agostino Portiere Gianmarco Romeo Ah Gianmarco Fatte vedere un po' meglio E poi se ne parla Ditacchio rimane Per la gioia De tutti Bene Andiamo 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 Qui c'è C'è da vivere Una stagione Intensa Tra l'altro Domandina Domandina Io vorrei valutare Anche le simulazioni Quest'anno Secondo voi Quando converrebbe Provarle Per Pere con il più richiesto Perché non ce lo so Specialmente Le sue Le sue interviste Post partite Gionber Ci penserò Allora Sanità Da Torino Bella Coscia Ha bisogno Di un po' Di tempo Per integrarsi Questo è Va bene Dunque Allora Oggi Brobei Detto O Brobrio Perché Le sue prime Statistiche Le sue prime Prestazioni Sono state Abbastanza Aghiaccianti E' chiamata La grande Impresa Dunque Menomale Che l'anno scorso Non c'era Scenetta Quei bambini Sennò Vicino A chi Minchè Non ci si metteva Nessuno Per troppa Paura Quanto Mi manca Grandine Quanto Bene Iniziamo Benissimo Comunque Dicevo Mi date un consiglio Su quando Provare Concretamente Le simulazioni Per valutarne L'efficacia Perché Non vi dico Perché Ma devo valutare Anche quello Quindi Conviene farlo Con le piccole Conviene farlo Con le grandi Conviene Quando conviene Farlo Parliamone Che appunto Questo è Stagione Di prova Dobbiamo Provare Tutto Giovanili Interazioni Simulazioni Mercato Io Per quanto Guarda le trattative Al di là Dei buoni feedback Che avete fornito Sulle trattative Rigide Credo Che mi Manterò Su quelle Elastiche Quest'anno Per avere Un mercato Un po' Più A crearci Noi Degli ostacoli Bel portiere Poi Bello Come i portieri Qua Siano Siano Come sono Online Hanno fatto Vola Piussanti I portieri De fifa In questi Primi Due giorni Che Tutte le Disgrazie Nel mondo Negli ultimi 200 anni Sanabria Attenzione Ah ma Stavamo proprio Così E la carica O Brobei O Brobei Eh vabbè Ma niente È un'invocazione Più che un insulto Ma purtroppo Non Non produce effetti Ma no La palla per Simi Che può andare La difesa È completamente Ferma Adesso si svegliano Ah Simi Fratello mio Sei un lontanissimo Parente di quello Che fu di Crotone Ahia Bravissimo Andiamo 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 Obi Obi-Wan Che brutta Palla Obi Che brutto Movimento Brobei Ma che cazzo Rola far Portiere Vabbè 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 Dai Poteva anche Andare Molto peggio Devo dire Alla fine È una delle poche volte In cui il portiere Non ha tutte Ste colpi Alla fine Allora Ma se io volessi Levare i capezzi Che proprio Lì No Obi può fa Mamma mia Ma se io Trasformassi Brobei In un A B No Perché Non Cross L'abbiamo visto L'altra volta Come non detto Fate finta Che non Abbia Proferito Parola Che Chiaramente Essere Pericolo C'ho Fatto Ma perché Perché Gli devi Regalare Un fallo Vediamo le punizioni Senza uomo Su Portiere Mamma mia Per caso Per Puro Caso Per Puro Caso Mannaggia Vabbè Difesa Difesa Invalicabile La nostra Bella Coscia Speriamo Che Entri Presti In condizione Ricorda Un po' Un primo Delict Che non era proprio Irreprensibile Poi si è ripreso Si riprenderà Che bella Coscia Speriamo Ma io mi chiedo Ma se fai queste parate Perché poi prima Sul primo gol In particolare Mi ti abbiocchi Così Eh Si può sapere Perché Perché Vabbè Senti Questa Potremmo Simulare Così andiamo Andiamo Aldunque Benissimo Così 3 a 0 Finita Ale Tanto questa Persa Per persa Tocca che abbiamo Formazione Se riesci Andavanti La ringrazio Eh prestazione Sono tre Non avevamo presi Sono tre Giustamente Sono contento Sono contento Avevamo presi Sono tre No no La Romania Non è il momento Per le nazionali Bella coscia Spera di migliorare Eh Se la augurano Un po' tutti Comunque Inter Lazio Trenicesimo E quattrocentimo posto Vedo che Scusate Come è Trenicesimo La classifica Che cosa dice In questo momento Napoli Torino E Samp No ma L'aspettavo Cosa Chi sia Questo Besittas Contro Ajax E poi Perché Ce ne stiano Parlando Resta Qualcosa Di totalmente Ignoto Allora Io non Ho Nulla Da fare Se non Cambiare Le tattiche Allora Palla Lunga No No In realtà Ampiezza Sta cippa Perché abbiamo Una squadra Che più è Compatta Meglio è Potremmo Giocare Una dipenda Un po' Più alta E vedere Come va Qui già C'è là Fai salire la squadra E se ti c'è da le spalle Io più di questo Non so far Bella coscia Va benissimo Io Faccio giocare Di tacchio Per una volta Voglio provare Buonazzoli Al posto De simi Magari C'è da quel Qualcosa In più Eh Darci quel Qualcosa Buonazza Darci quel Qualcosa Allora E poi Serenitana Questa partita Che se non vinci Questa Che sei venuto A fa Ecco Aia 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 Mamma mia Bene così Dai Comunque si fatica Tanto ragazzi Si fatica Veramente tanto Bravo Bonazza Bravissima Ancora Portiere Superstar Oggi Punto Survivo L'ultima partita Bravissima Che personalità Guardalo Frank 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 Si Lo sapevo Che ci avrebbe pensato Lui Mazza però Coordinato Bene Tiro a giro Non 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 voluto In realtà Bello Ale Primo gol Finalmente Era pure ora Comunque Difese un pochino Troppo alte Forse Dal solito L'annuso Problema Vabbè che è l'Empoli Però ci vorrebbe un big match Per valutare alcune cose Perché per dire Prima col Torino Partita impegnativa E ci hanno aperto un 2 Contro la squadra Che adesso è di vertice Per cui ci sta Eeeh Però rapporto di forza Non così netto Come potrebbe essere Che ne so Non sa Non ritare a Inter Ecco Tocca a vedere un big match Bravo Frank Guarda Bravi Vabbè difesa Improponibile Dell'Empoli Però eh Difesa improponibile Ma recupera bene Non segue nessuno Purtroppo Niente I diri da fuori Non se piano I diri da fuori Non se piano Maledizione Frank È partito Guarda Guarda Buonazza Eeeh Uh Bravbay Dov'è la palla Bravbay Se è persa Sì va bene Ma che è Perché la eviti La palla Su tua Bravissimo Apri tutto Per il ricercatissimo Meseli Per il ricercatissimo Meseli Può andare in fondo Meseli La fa tutta Bravbay Manco così Perico impassibile Dentro Si stanno consumando Le forze oscure Ma lui di facciata Mamma mia Vabbè Ah ma Bravbay Ma manchi i passaggi Bravbay mio Ma manchi i passaggi Proprio Zero carbonella Ma te prego Cioè Madre santa Grazie per il tuo contributo Non puoi averlo fatto Non puoi averlo fatto Non puoi averlo fatto Niente Sfortunata Sta serenitana Sfortunatissima 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 Non ci siamo Non ci siamo Il progetto Non mi decolla Qua È durissima Ah Bravbay Non te se può guardare Bravbay Non te se può guardare Fratello mio Io Te voglio tanto bene Ma non Non te se può guardare Non te se può guardare Passaggio Veramente agghiacciante Da tutti i punti di vista Ah mia Veseli Tutta Tutta Veseli Che sta succedendo Alle aree tecniche Flashava tu Veseli è cotto Bravbay Ma male che esci Ma male che esci Ciao Ciao Bravbay Ciao Ciao Bravbay Ciao 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 Manca la linea Che è scomparso All'improvviso Comunque signori miei Io vi posso dire Il progetto che ho in mente Per la carriera ufficiale Con questa difficoltà Molto impegnativa Ci regalerà Delle gioie Immense Io sono certo Sono certo Che se riesco a realizzare Quello che ho in testa Forse potrebbe essere La miglior carriera Che io abbia mai fatto Che è una parola forte Ma tutto considerato Gli estremi Secondo me Ci potrebbero anche essere A livello di fascino Del progetto Poi certo Non capire che succede Dipende anche da Quello che troviamo E da quello che ci accade Concretamente Però 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 Vai Bonazza Bravo Bonazza Tu si che sai mandarci in porta Simi 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 Il meritato pareggio di Simi Andiamo Su Bene Se i giocatori davanti dialogano Ce la facciamo A fare qualcosa 85esimo Si deve provare il miracolo Curipa lì Bella la palla per Simi Che però viene agganciato benissimo Ma come è finita Mi fa via sto puntarello Via Ok Allora Beh C'è Poteva Poteva andare Aia Preparate le orecchie Eeeh Tanto ormai Chissà quanti anni ci vorranno Per risolvere sto bug Mi aspettavo Giorgio Eeeh Due ottime difese Che detto Dove un 2 a 2 È agghiacciante Però Allora Ava ghiomber Però non è che Potevamo stare sempre a chiacchierà Ogni settimana Un minimo Un minimo di karma Ma la devi concedere Scollate Allora Adesso Adesso Noi abbiamo La Eeeh La capolista No L'Atalanta è prima Napoli Allora Eeeh Vorrei un attimo Vedere il calendario Allora il calendario ci offre Napoli Atalanta Stretto giro Poi Cagliari Verona Inter Allora io direi Che potremmo Adesso ci giochiamo Napoli Poi simuliamo No la prossima volta giochiamo anche l'Atalanta Così vediamo due big match Poi simuliamo Cagliari e Verona E ci giochiamo Inter Eeeh Bologna lo possiamo simulare E proviamo il Milan Volevo fare un po' di big match In questo Questi prossimi episodi Quindi Per adesso Andiamo alla partita Con E la squadra è stanca La squadra è un po' stanca Però Vabbè Allora coppia Simi Bonazzoli Con Bonazzoli Che Mi corre E Simi Che mi alza la squadra Ghiomber Per adesso Rimane in panca Bella coscia Abbiamo presi due Con lui in campo Va benissimo Va benissimo Allora qua teoricamente C'è un apri in due Andrà così? Dai Vediamo che succede Il derby non si poteva Non si poteva lasciare Si decide tutto al derby Qualche modo Poi stavo pensando Con l'Atalanta Potremmo anche simularla In realtà Vorrei provare No Si parte benissimo Manco Manca il tempo Di buongiorno Salve Vorrei Gagliolo Completamente Per fratto Il portiere Manca la vista Bene Beh ottimo Quattro minuti E già La serenità Ma è sotto Bravo Bella coscia Simi Però ragazzi Se mi ammalate sempre Simi A fare la punta Che se deve inserire Portacci Come giocano Agaglio Su Amico mio Bravo Frank Apri tutto Hai aperto un po' Troppo No 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 Voi salì Cosa fai Era un cross È cross È cross Sta cazzo Allora niente No 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 Non giro palla Che è pazzesco Si vede concretamente La differenza Fra una piccola squadra Che poi termine terribile Fra squadre non di vertice Tipo l'Empoli È un Napoli Che ci sta facendo Girare Veramente la testa Veramente la testa Brutali Realmente brutali Giocano molto bene Molto 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 Ma è proprio il giro palla Al centrocampo Tutto di prima Quindi questa è una cosa Molto bella Perché si Si scontra Contro la nostra difficoltà Di giocare palla a terra Con una squadra Che concretamente Non lo sa fare Che non ha gli uomini Per farlo Per cui Contro squadre E così Se tu hai Una piccola squadra Sarai costretto A chiuderti A giocare di partenza A giocare sugli esterni Ma non a fraseggiare Io che ho un gioco Di fraseggio Non lo posso far Perché se fraseggio Prendo le pizze Ma devo dire Da questo punto di vista Sono contento Perché Ho la percezione E vorrei un vostro Parere A riguardo Ho veramente la percezione Che i rapporti Di forza fra le squadre Abbiano finalmente Un peso Quest'anno E sarebbe la cosa Più bella del mondo Perché Io voglio percepire Una differenza Se gioco con Napoli O se gioco con Lempoli Se sto con Milan O se gioco con 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 Brescia Se sto con Real Madrid O se gioco con Il Los Angeles Galaxy Voglio dire Se devi percepire Non può essere La stessa cosa Come era l'anno scorso Anzi L'anno scorso A volte Era ribaltata Sta cosa Non riesco a far gioco Si chiudono da paura Guarda che roba Non gliela levi Guarda Figo però Mazza Sono contento Sono contento Ragazzi Veramente contento Devo dire Io adesso A finire il primo tempo Provo una cosa Amma mia È vero Non abbiamo una squadra Però vorremmo 4-3-3 For curiosity For curiosity Allora Con la Col C.O.C. Coppia di Coulibaly Simi Unica punta Hobby a sinistra Brabbi a destra Veneri Cagliolo Con Con Ripiegamenti E Palla Lunga Sugli Inserimenti Squadra Ampia Ok Bravo Cambio Tattico Netto Con lo schema Che l'anno scorso Mi era più continuato Quest'anno Gioco 4-4-2 Online Quello Quello standard Senza neanche Il trequartista Bravo Frank Voglio rendermi conto Se cambiando Impostazione Tattica Ci cambia qualcosa Bravo Frank Hobby Bravo Hobby Niente Era passato Il folletto Frank E che gambe C'hai Lasimi Sette metri In me Dici Non era la gamba Vabbè Ci stanno A far girare La testa Ci prendono Appallonate Concretamente Non abbiamo fatto Un tiro pulito Oggi In porta Incredibile Napoli In totale Controllo Dalla partita Non ho Neanche il cambio Di schema Ha fatto Niente Ok Assurda La gioia Che sto provando Nel perdere 3-0 Penso mai successo Nella mia vita Sono contento Perché effettivamente Si respira Aria di calcio Si respira Una vaga Percessione Di realismo Per la prima volta Dopo Mamma mia Ve posso dire Che era dai tempi Di Trapani Che non si sentiva Un rapporto Di forza Così realistico Con le squadre Cioè quest'anno Regà Ripeto Il progetto Qua in mente Io Sarà di una Difficoltà Pazzesca Però Però Verrà fuori Una figata Secondo me Quest'anno Secondo me Verrà fuori Veramente una figata Perché Perché Sì Eh vabbè No Mamma mia Portiere Incredibile Io non ho parole Non ho Arca miseria Vai Brobey Però almeno Il movimento Fai finta Di essere interessato Bravo E buona Non è Non è vero C'era quello in basso Che lo teneva Poro Brobey Per una volta Che si muove Come si deve Io Mi stanno Arando A livello Proprio Di gioco Cioè Un girovalla Ipnotico La capacità Di arrivare In fondo Con una Leggiatria Incredibile Cali di tensione Zero Non ho Non ho percepito Cambi di difficoltà Nel corso Della partita Cioè Manno Manno Veramente Pesa Ceffoni Dall'inizio Alla fine Difesa Imbarazzata Più che Imbarazzante Bella Coscia Sa più A chi Dai resti Gli serve Il neurologo Il neurologo Fine partita A bella coscia Seppure Infortunato Veseli Sul cross Non ce posso Credo Ammazza Che sfigia Non male Che si vede Si sta reggendo Tutto Il ginocchio Ceduto Il ginocchio Ceduto Vabbè Allora Vediamo un attimino Le statistiche Di fine partita Perché sono importanti Possesso palla 36% Tiri 0 A 17 Cioè Una roba Passaggi 168 A 66 Parate 10 A 0 Mamma mia Impieto Precidenti 0% Vabbè Non è andata Vabbè Facciamo Saltiamo Il giro All'inferno Che tanto Ci siamo stati In campo Per cui Poco importa A Roma Vinto il derby Qua ci sono riusciti Buon per loro E Volevo Prima di chiudere Tanto fuori Festeggiano Sì C'è Pensi Che scelida Ghiomber Ci penserò Sì Giochi Dè Aggiornamento Mensile A Blaielli Il camera Ci darà enormi Soddisfazioni Quest'anno Che C'è Kudiao Aliou Aliudiao Abdu Kuruma Dramè Sta uscendo fuori Niente Cosmico 4 settimane Veseli Ottimo Allora Io volevo Per l'appunto Ah ma Siamo Già Così E Vabbè Che scelida Ghiomber E' brutta Squadra stanchissima Ecco il calendario Il calendario Sembra abbastanza letale Quest'anno Il calendario Un po' si Un po' si Vabbè questo volevo simularlo Per vedere un po' i big match simulati Come vanno Come vanno 3 2 1 2 a 2 Da risimulare Da risimulare una volta Quindi o il Milan o l'Inter Vediamo chi sarà più avanti in classifica Lo valuteremo Allora ragazzi Ma è pazzo Ma è pazzo È pazzo Sei infortunato Sei infortunato È completamente pazzo Cioè Non te puoi arrabbiare Sei infortunato Vabbè Comunque Abbiamo avuto informazioni Importanti Oggi Episodio Episodio importante Devo dire Sono contento Per cui Io adesso Siccome se no mi riscordo Intanto che vi saluto Metto il fallo di mano Così vi faccio vedere Dove si mette Se lo troviamo Dove si mette il fallo di mano Dove cazzo Sta il fallo di mano Sono perso Il fallo di mano Vabbè Comunque ragazzi Il discorso è Siamo arrivati A un punto A un punto Secondo me Molto positivo Nel complesso Io non trovo Il fallo di mano Però adesso Lo cercherò Fatemi sapere Cosa state provando voi Cosa state sperimentando Come vi state trovando Se avete trovato Bug, glitch Problemi Con le coppe europee Soprattutto Non volevo mai Che fosse Come i vecchi tempi Ma fatemi sapere Noi ci vediamo Alla prossima Un altro episodio Molto intenso In cui credo Che ci giocheremo Un 4-5 partite buone Credo che potremmo Anche Anche fare Tutto Ottobre Sì Forse tutto Ottobre Così valutiamo Bene Le cose Per cui ragazzi miei Un abbraccio Ci vediamo Alla prossima Una riflessione finale Adesso che stavo mettendo Il fallo di mano Che va applicato Nel menu principale Andando su impostazioni Mettendo regole Fallo di mano Sì Scegliendo Sì In assoluto Cosa vuol dire Attiva solo per i portieri Vabbè Stavo guardando Al di là della modalità competitiva Che questa è una cosa Che dovremmo anche provare In effetti Durante questa Questa Carriera C'è Difficoltà In base al giocatore L'intelligenza Degli elementi Della cpu Più forti È maggiore Quando vengono Controllati Concretamente Qualcuno ha provato Cosa fa Parliamone Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima